Sì, oggi assistiamo alla saga dell'assurdo, ho sentito interventi da parte di commissari della Commissione ma anche di persone che non si occupano di commercio e mostrano ai loro interventi evidentemente una certa ignoranza nel settore. L'opposizione è confusa e ha la memoria corta, la delibera non è stata approvata in fretta e furia ma con un lungo percorso partecipato, lungo percorso partecipato mai fatto e sconosciuto alle amministrazioni precedenti. Sono stati numerosi incontri che hanno portato a quella delibera però il contrasto era tra la linea politica della maggioranza ed alcune richieste dell'associazione di categoria perché noi, la maggioranza, possiamo mettere nella delibera quelle proposte dell'associazione. L'opposizione invece le presenta così come le vengono consegnate da associazioni di categoria e questo è successo a giugno con l'accompagnamento di un po' di confusione che non guastava. Poi continua la confusione, perché non abbiamo atteso di più, l'hanno detto diversi consiglieri, ebbene signori la 35 del 2006 che era la precedente del Libera, era del 2006, ma non vi vergognate? Ma non vi vergognate? Ma dove sta la vostra competenza? Dov'è? E' dal 2006 che non mettevate atto mano al commercio su area pubblica. Grandi competenze, dove stanno? Non ne abbiamo traccia. Nelle commissioni, questa commissione non ha ricevuto una sola proposta di emendamento da parte dei consiglieri. Abbiamo detto che il luogo sono le commissioni per discutere, non ne avete mandate, non ce n'è nemmeno una. Non le avete fatte presenti durante la commissione, non le avete consegnate. Siate coerenti, siate seri e mostrate di essere competenti, perché questa presunzione di competenza va dimostrata, non basta dire che gli altri sono incompetenti per diventare competenti. Altra grossa confusione è che il decoro non è rappresentato dalla Bolkestein, o meglio, dalla legge 59 del 2010. Il decoro si ottiene giorno per giorno dialogando con le associazioni di categoria, spiegando che purtroppo le amministrazioni precedenti hanno concesso dei posteggi nei luoghi dove non andavano concesso, contrarie al PGTU e ad altre normative, e quindi bisogna spostarsi, possibilmente di poco, ma dove il commercio non va in contrasto con la mobilità e con altre prescrizioni e principi costituzionali. Quindi bisogna avere la serietà di affrontare queste cose nell'ambito di una delibera e con dettaglio, cosa che la 35 del 2006, che pure è una vecchia delibera, non conteneva, conteneva anch'essa dei refusi, delle cose migliorabili. Però nessuno lo dice qui. Poi è stato detto dalla Consiglia Celle che parere contrario del serietariato, forse inizialmente, ma gli emendamenti quella notte del giugno 2017 hanno superato il parere contrario e che quindi alla fine il parere è stato positivo. Diciamo anche che la delibera 30 ha resistito a due ricorsi, uno al TAR e uno al Consiglio di Stato, cioè numerose associazioni di categorie e singoli cittadini hanno presentato ricorso. La delibera 30 era fatta così male che ha vinto il ricorso sia al TAR che al Consiglio di Stato. Sono state dette altre cose sbagliate, 44 pagine di delibera. Allora, ripeto, alcuni articoli sono stati riformulati come le sanzioni con l'aiuto della Polizia Locale e degli uffici amministrativi che ci hanno aiutato a scriverli meglio. Poi il testo della modifica contiene l'emendamento, cioè la delibera iniziale è ripubblicata, quindi la maggior parte delle pagine sono la ripubblicazione e la delibera, non sono modifiche. Poi abbiamo aggravato il rapporto con gli operatori, abbiamo creato problemi all'esercizio delle funzioni, non li abbiamo creati noi, li abbiamo detto prima, li ha creati chi gli ha dato dei posteggi dove non andavano dati. Poi le leggi ci impongono e i regolamenti ci impongono perché devono essere rispettati, noi siamo per la legalità, siamo per il decoro, ci dispiace se si crea una riduzione di entrate per gli operatori, ma siamo costretti a rinegoziare, anzi a proporre una nuova localizzazione agli operatori che si trovano a esercitare in luoghi dove non possono esercitare. Il rilancio dei mercati contiene questa delibera, questa delibera è una visione nuova di città, è uno stravolgimento perché permette di calare quello che già alcuni mercati europei come la bocheria a Barcellona o San Michele a Madrid realizzano giornalmente, cioè la somministrazione, il consumo sul posto, l'abbiamo realizzato noi, non c'era nella 35 del 2006 e questo per dare una leva nuova alle attività produttive. I mercati stanno morendo perché in Italia e a Roma non viene recepito questo nuovo modo di esercitare le attività produttive. La delibera lo propone, l'ha proposto a giugno, speriamo che venga data attuazione prima possibile. Non ci sono forzature, il percorso è stato lungo e partecipato. Il regolamento è durevole ma il nostro principio, come ha detto il consigliere Sturni, è di un continuo miglioramento e così funziona in tutti gli ambiti. Non c'è una cosa che è scolpita nella roccia. Se ci sono dei punti che possono essere migliorati alla luce della modifica dei contesti, vengono fatti, si modifica la normativa. Ma, ripeto, non è uno stravolgimento. I contenuti non cambiano della delibera. È stato detto che abbiamo dato lo stesso peso a cittadini e associazioni. No, abbiamo dato ascolto a tutti. Abbiamo dato ascolto a tutti. Abbiamo messo sul piatto, abbiamo ascoltato le osservazioni sia dei cittadini che delle associazioni di categoria. E nessuna delle due è stata prioritaria, perché ognuno dei due ha diritto di esprimere la propria opinione, i propri emendamenti, le proprie osservazioni. Ma poi è la politica, è quest'Aula che decide cosa si porta avanti. Sono state chiarite le competenze, perché c'erano dei punti di ambiguità e ci è stato chiesto di modificarle. E così è stato fatto. Perché è stato necessario modificare la normativa? Anche perché il Governo continua a cambiare le scadenze. Quindi una delle modifiche della normativa è non abbiamo più messo una scadenza come era il 31-12-2018, abbiamo detto secondo la normativa vigente. Così resiste anche eventuali cambiamenti di umore da parte dello Stato. Ulteriori osservazioni. diciamo che i regolamenti hanno bisogno di questo continuo miglioramento. Ricordo che oltre alla 35 del 2006, con il Consigliere Storni stiamo parlando di decentramento. Decentramento amministrativo, un regolamento del 99. Allora, questa competenza dove l'avete messa dal 99 a oggi? Nella tasca? Non ricordo. Cioè, dov'è questa competenza che mi lantate? La città era viva, diceva la Consigliera Baglio, e non spenta. Io mi ricordo che veramente i lampioni del raccordo erano spenti. Il piano LED l'abbiamo dovuto fare noi. Però questa è una cosa all'attere. Consigliere, poi le do la parola e facciamo terminare il Consigliere Bordoni. Sono dieci minuti, Consigliere Bordoni. Io sto terminando il mio incontro. Scusate. Mi lantano, esatto. Con lei. Ho spiegato la ragione della falsità che è stata detta prima. Allora, lo sviluppo della città è contenuto in questa delibera e se voi, invece di criticarla solamente all'ultimo momento, quindi in fretta e in furia, come dicevate voi, l'aveste letta, scoprireste che questa contiene una visione della città che è importante per rilanciare il commercio su area pubblica. Vorremmo questo dalle opposizioni. Poi le opposizioni sono padrone di rappresentare il ruolo che vogliono, ma non mi sembra che abbiano contribuito in alcun modo alle migliorie apportate nel settore. Grazie.